Innovazione dei metodi di insegnamento, modernità negli approcci didattici e avanguardie proposte per studiare le lingue straniere. Porti aperte alla British School di Campobasso in occasione della quarta edizione dell'Open Day. Per stare sempre al passo con i tempi abbiamo intenzione di digitalizzare la scuola in ogni suo aspetto applicando la tecnologia più innovativa alla segreteria e alla didattica. Questo per andare incontro sia le esigenze degli studenti di tutte le età che oramai sono abituati ad essere sempre connessi ma anche per mettere i docenti nelle condizioni migliori per poter svolgere il proprio lavoro. Oggi il mercato è molto cambiato perché i sistemi di apprendimento stanno cambiando, non è più esaustivo il corso tradizionale in aula. Con l'evoluzione delle nuove tecnologie gli studenti hanno la necessità di maggiore flessibilità nella fruizione del corso, hanno esigenze di imparare anche stando in mobilità. Tanti gli studenti e le famiglie arrivati nella sede di via Scardocchia per conoscere gli spazi della struttura, i corsi di lingua e le offerte in merito alle certificazioni informatiche. Durante l'Open Day momento particolare è stato riservato agli studenti della British che durante lo scorso anno accademico hanno conseguito le certificazioni Cambridge. La premiazione e la consegna degli attestati è stato un modo per ripartire in visione del prossimo imminente anno accademico che si è presentato ricco di novità. La novità è l'introduzione di un registro elettronico che eliminerà molto lo spreco di materiali cartaceo e questo farà sicuramente bene all'ambiente, faciliterà il lavoro degli insegnanti nel gestire i loro corsi, farà in modo che i genitori siano sempre aggiornati sull'andamento scolastico dei ragazzi. Attenzione e cura per una formazione importante e profonda che renda gli allievi veri e propri cittadini del mondo. I love the British School!